Allora, oggi è uno spazio di servizio, è un appello agli amici e ai collaboratori di Elie Schlein, alla sua segreteria a Largo del Nazareno, a Roma. Allora, c'è un problema, la vostra segretaria ha dei guai con il suo piano tariffario, con il piano telefonico, ha finito i giga, perché non c'è altra spiegazione per spiegare il fatto che da, mentre registriamo questa cosa è lunedì mattina, da sabato pomeriggio, da quando si è diffusa la terribile notizia dello stupro di gruppo da parte di sette mostri egiziani ai danni di una ragazzina di 13 anni, da sabato la Schlein non ha twittato, non ha parlato, non ha telefonato. Io naturalmente mi auguro che da qui a quando molti di voi vedranno questo filmato le cose siano cambiate, allora io sarò ben lieto di tornare qui a dire brava Ellie, ma ti pare normale che dopo mesi di campagne contro il patriarcato, per i diritti, a difesa del corpo delle donne, poi c'è lo stupro di una ragazza così giovane, peraltro con modalità bestiali, sette belve che assaltano lei, il suo fidanzatino, lui viene immobilizzato da cinque, due violentano lei, cioè una cosa francamente atroce e questi non riescono a dire una parola a sinistra e quando la dicono, è il caso di alcuni collettivi femministi, la dicono sbagliata, parlando di xenofobia, strumentalizzazione, la verità è un'altra, lo sapete anche voi, se i sette colpevoli fossero stati, boh, sette ungheresi, sette militanti di destra, sette nazi skin, scegliete voi, starebbero tutti a sinistra appesi ai lampadai, a gridare, a organizzare dirette televisive, siccome invece qui il racconto non è funzionale alla, diciamo così, alla narrazione buonista che a loro è cara, e allora è meglio attenuare tutto, e invece la verità è che noi dobbiamo affrontare tre guai rimossi per troppo tempo. Questa storia dei minori non accompagnati, leggina del diciassette voluta dalla sinistra, per cui un minorenne non è né respingibile né allontanabile dall'Italia, ma ti pare, puoi mettere sullo stesso piano un bimbo di cinque anni con un diciassettenne a otto due metri, questo non funziona. Secondo, diritto d'esilo, lo chiedono in cento, lo ottengono in dieci, ma anche gli altri novanta a cui non verrà concesso lo status di rifugiato hanno tra i diciotto e i ventuno mesi per fare quello che gli pare in Italia. Terzo, è un tabù, ma va affrontato, ma se tu fai arrivare una quantità di maschi, di maschi giovani, di maschi provenienti purtroppo da paesi e culture dove la donna è considerata un oggetto, è evidente che tu innalzi la probabilità che episodi come quello di Catania accadano e purtroppo non si tratta di disgrazie, ma di una probabilità assai elevata dal numero di persone di quel tipo che ci stiamo portando in casa. Dimmi la tua se vuoi nei commenti.